Una nuova tragedia ha sconvolto gli animi durante i festeggiamenti in onore del patrono Diamantea nella pittoresca regione della Calabria. Mentre il ricordo della recente tragedia di Brandizzo, dove un convoglio aveva tragicamente mietuto cinque vite operaie, era ancora fresco nella mente di tutti, un nuovo dramma legato alle stazioni ferroviarie si è consumato nel cuore della festa patronale Diamantea. Nel cuore di questa comunità, un giovane di soli 27 anni, di nome Francesco Paradiso, ha perso la vita in circostanze ancora avvolte nel mistero. Paradiso non si trovava sulle rotaie per motivi di lavoro o dovere, ma bensì per una scelta apparentemente sconsiderata che avrebbe un tragico epilogo. Desideroso di ottenere la migliore vista per ammirare i fuochi d'artificio, il giovane aveva optato per posizionarsi sui binari del treno in corsa. L'ardita mossa ha portato a una collisione fatale con il treno, mettendo fine, prematuramente, alla giovane vita di Francesco Paradiso. In quel tragico istante, insieme a lui si trovavano altre persone, tra cui sua sorella minore e alcuni amici, che avevano condiviso con lui l'entusiasmo per la festa patronale. Nonostante un tempestivo intervento dei soccorsi, il destino ha deciso inesorabilmente di strappare il giovane alla vita. Il 27 settembre sarà sempre ricordato come il giorno in cui Francesco Paradiso ha perso la sua battaglia contro la leggerezza di un'azione imprudente. Prima di concludere, vorremmo ringraziarti per la visione del nostro video e invitarti a iscriverti al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche per ricevere aggiornamenti sulle ultime notizie e curiosità. Sarà un modo per rimanere sempre aggiornato su eventi di grande rilevanza come questo. Inoltre, apprezziamo molto i tuoi commenti e feedback, quindi non esitare a lasciare un commento qui sotto con la tua opinione. Grazie per il tuo supporto!